Presentato in Regione Toscana il progetto da parte di AISA Impianti per aumentare le tonnellate sostanzialmente di rifiuti che questo impianto può ricevere. Il presidente però di AISA dice non chiamatelo inceneritore, ormai l'impianto di San Zeno è a tutti gli effetti una centrale di recupero. Non chiamatelo inceneritore per piacere perché sarebbe veramente fare torto ai nostri tecnici che ci si sono dedicati, l'hanno saputo trasformare in una centrale. L'impianto di San Zeno è cambiato nella sua natura nel 2017 perché è diventata una centrale di recupero in R1. Questo ci consente oggi di poter fare un progetto per rispondere proprio alla necessità di lavorare le raccolte differenziate di questo territorio. Quindi per chi dice raddoppio inceneritore noi rispondiamo raddoppio inceneritore no grazie, siamo i primi proprio a non volerlo perché tutto quello che sarà termovalorizzato in più proverrà solamente dalla lavorazione delle raccolte differenziate, quindi uno scarto interno, non prendiamo certo i rifiuti di Firenze. Tutto il recupero di materia, quindi la lavorazione della frazione organica, la lavorazione di tutte le frazioni secche delle raccolte differenziate sarà due volte maggiore rispetto alla capacità del forno stesso che verrà incrementato con questo progetto di 15.000 tonnellate rispetto all'attuale che corrispondono al nostro fabbisogno per dare una risposta alle raccolte differenziate proprio alla valorizzazione di questi materiali. Sicuramente i tempi sono lunghi, noi prevediamo che ovviamente quest'anno non si faccia assolutamente nulla noi saremmo già contenti se a fine anno la regione toscana ci darà la sua valutazione da tenere presente che in questa fase noi non stiamo ponendo la prima pietra, stiamo richiedendo i permessi.